A più di due anni di pandemia, con la fine di aprile, scade l'ultimo decreto con le regole per contrastare il Covid-19. Si salutera il Green Pass e invece le mascherine al chiuso saranno ancora obbligatorie. Uso necessario anche per salire sui mezzi di trasporto e partecipare ad alcune attività dove è più alto il rischio di contagio. Proprio nella giornata di oggi a Palazzo Chigi saranno definite le regole per l'uso delle mascherine. Si sceglieranno i nodi circa gli ambiti della scuola, del lavoro, degli uffici, dei negozi e dei servizi alle persone. Con emendamenti al decreto Covid che sarà approvato giovedì dalla Camera e poi in Senato, si attende l'ordinanza ponte del Ministro Speranza che segue la linea della prudenza e quindi le mascherine resteranno ancora nella situazione più a rischio. Cioè resta obbligatoria l'utilizzo della mascherina FFP2 per alcune settimane dopo il 1 maggio sui mezzi di trasporto pubblico locale, lo stesso vale per aeree, navi, treni e lunga percorrenza. Le FFP2 resteranno ancora in tutti i luoghi di aggregazione sociale dove si sta a lungo in uno spazio chiuso con posti ravvicinati, vale a dire cinema, teatri e sale da concerto. Nei palazzetti dello sport al chiuso resteranno obbligatorie ancora per qualche settimana. Resta il momento il nodo da sciogliere per parrucchieri, barbieri, centri estetici e servizi alla persona che prevederanno ancora l'uso obbligatorio della mascherina FFP2.